Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, naturalmente vi ringraziamo per aver aderito a questo ultimo appuntamento dello Smarket in versione estiva, chi naturalmente si sta collegando in questo momento non si è ancora perso nulla perché stiamo iniziando proprio in questo momento ed è l'ultima dello Smarket in versione estiva perché poi ci prenderemo agosto per provare a ragionare su come proseguire questa esperienza. Devo dire che a noi, o almeno a me personalmente sta piacendo molto perché avere la possibilità di confrontarsi con più voci è sempre molto interessante perché su queste tematiche la soluzione non è mai una, la ricetta in realtà non c'è, ma c'è la voglia di trovare ogni volta una soluzione, naturalmente una soluzione diversa. Io farei una cosa di questo genere, naturalmente vi dico come vogliamo affrontare questa riunione, questo incontro e sarà un domande e risposte con Stefano Donati. Tutti possono fare domande, non c'è assolutamente alcun tipo di problema, basta accendere il microfono e la webcam e fare domande, noi abbiamo già ricevuto delle domande durante la promozione dell'incontro e quindi io partirei innanzitutto magari con una delle prime domande che c'è arrivata, se tu sei d'accordo Stefano. E poi naturalmente lasciamo libera la discussione. Il tema di oggi è custodire i clienti e quindi riaccendere diciamo così il fuoco ogni volta che un cliente magari sente il desiderio di lasciarci o di abbandonare questa cosa. Tra l'altro stiamo lavorando su questo tema con Stefano e l'abbiamo chiamato in questo momento, accendilo tu, questo solo è che è spento, citando naturalmente una cover di Gianni Morandi che diventerà la sigla del corso. La prima domanda è questa qua. Allora la fidelizzazione della consulenza, progettazione, engineering e design. Allora uno stabilire il rapporto, due mostrate le capacità di servizio, poi c'è fidelizzare, farsi chiamare quando servi ma anche prima che sia troppo tardi, avere un contatto continuo per monitorare la situazione del cliente senza assillare nelle nuove metriche digitali nel post covid. In realtà più che una domanda è un riepilogo di tutto quello che abbiamo fatto, però io partirei proprio da qua Stefano, che è farsi chiamare quando servi. Ok, allora come si fa? Intanto farei una introduzione perché è un tema molto delicato questo. Alcuni pensano, io semplicemente trattando bene i clienti, lavorando bene, offrendo servizi di qualità, li manterrò fidelizzati a me. Quindi è sufficiente essere bravi, tra virgolette, per ottenere questa fedeltà, manco per idea. Manco per idea perché, per me di tutto, se noi pensiamo che i clienti siano riconoscenti, proprio siamo fuori strada, soprattutto in questa fase storica. Anche se siamo stati bravi per vent'anni e sempre abbiamo lavorato bene, attenti, proattivi, improvvisamente basta un non nulla perché magari il cliente è in una fase economica delicata, ecco che per pochi euro di differenza vada qualcun altro. Quindi dimentichiamoci questa cosa qua. Poi come facciamo a farci chiamare? Come facciamo a rimanere nella mente del cliente? Io vi faccio fare menti locali su una questione. Su quanti locali, tipo ristoranti, avete frequentato nel vostro territorio? Saranno decine se non centinaia. Però se io vi chiedessi il nome, dove frequentemente voi andate, tuttora andate, ne verrebbero fuori il 4, 5, 6, 7, non di più. Perché? Come hanno fatto questi signori a fissarsi nella vostra mente? E soprattutto non è detto che le altre decine vi abbiano trattati male. Quindi dimentichiamo il principio in base al quale la fedeltà del cliente è direttamente corrispondente alla customer satisfaction. Ok? Perché? Perché abbiamo testato noi un sacco di volte, sia come clienti, sia come fornitori, che la fedeltà non dipende da questo fattore. Noi possiamo essere trattati non troppo bene dal nostro operatore telefonico, piuttosto che dal nostro istituto di credito e continuiamo ad essere clienti. Viceversa, abbiamo scelto magari attraverso un portale di pronotazione Booking.com un hotel, che era anche economico, dove abbiamo trascorso un bel periodo. Non è detto che tornando in quella località riprenoteremo nello stesso hotel. Quindi sono dei fattori di carattere psicologico che legano le persone. Allora, come facciamo noi a fare in modo che? Dobbiamo... Il paradigma del dono è importante sotto questo aspetto qua. Se noi promettiamo qualcosa e diamo esattamente la cosa che abbiamo promesso, non abbiamo fatto niente di particolare, nel senso che a fronte di un prodotto e servizio siamo stati retribuiti. Se noi invece, oltre a ciò che è stato definito come prodotto e servizio, diamo qualcosa in più, anche un piccolo gadget, un oggetto, un accessorio, un elemento di servizio, che non si aspettavano, improvvisamente abbiamo introdotto il concetto di magia. Cioè, la nostra prestazione è stata superiore alla aspettativa. Ogni qualvolta otteniamo questo risultato, improvvisamente dall'altra parte scatta il meccanismo. Ha però, e soprattutto per quelli tra di voi che lavorano nel B2C, cioè si rapportano verso il cliente finale, sappiate che questo può diventare, anche spesso diventa, un motivo di conversazione. Ecco che, allora, io accendo con i miei amici, racconterò, sapete cosa hanno fatto questi per me? E racconterò tutte queste altre cose che l'ho fatto. Per quelli che lavorano nel B2B, non si parla invece di passaparola, ma si parla di ripetizione dell'acquisto, perché per quel fornitore è speciale. Si tratta quindi di individuare quell'elemento in più da abbinare alla prestazione che il mio cliente non si aspettava. Nel mio caso è molto semplice, io faccio servizi, faccio corsi, magari regalo un ebook che avevo preparato e non avevo promesso, magari faccio in modo che al termine del corso regalo un'ora di webinar come follow up per vedere se i concetti sono fissati, per vedere se c'è stato qualche momento nel postcorso che deve essere registrato e magari col cliente non è stato efficace al 100%. Quindi, in maniera individuale, trovare questo elemento da abbinare alla proposta, che non è stata promessa, ma non deve essere la prima cosa che mi viene in mente, qualcosa di coerente con i bisogni di quel cliente. Bene, se faccio questo si ricorderanno di noi, si ricorderanno di noi e quindi quell'aspettativa del come farmi chiamare, come farmi chiamare in un secondo momento, beh, questo lo ottengo. Oltre a ciò, oltre a ciò, il mio grande consiglio è tenere caldo il cliente. Come si fa? Comunicando frequentemente con questo cliente. Quello che io normalmente propongo è di realizzare un pian dittoriale. Cosa è un pian dittoriale? Sono una serie. Prego. Scusami, ti avvicini un po' lo schermo del pc perché sennò ti vedo molto spesso tagliato, ecco, così già meglio, perché sennò mi sembravi, sai come quelli che si affacciano alle finestre e sono così che... Adesso invece è molto meglio, molto più professionale. Stavi parlando di tenere caldo il cliente e del piano redazionale. E del piano redazionale, cosa vuol dire? Vuol dire che io devo programmare una serie di email, fondamentalmente, di interesse che siano interessanti per il cliente. Cosa vuol dire? Che dobbiamo un po' dimenticarci il concetto di proporre sempre qualcosa da comprare. Compra, 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 compra. No, questo è sbagliato. Allora, quali sono queste informazioni che io posso dare al cliente? Ve ne elenco alcune, casomai se volete prendere note e poi dopo provarle a declinare sulla vostra attività. Una potrebbe essere gli elenchi delle opportunità. Vengo a sapere che è aperto un nuovo mercato, vengo a sapere che dalla Grecia cerco un fornitore per il prodotto del mio cliente. Ho delle opportunità di lavoro e quindi le pubblico, lo faccio sapere i miei clienti che magari hanno amici, parenti, conoscenti in cerca di lavoro. Ancora, mi tieni aggiornato. Cosa vuol dire? Vuol dire avere una competenza, una conoscenza un po' più vasta rispetto al nostro supermercio logico. Verifico cosa succede nel mercato del mio cliente, verifico cosa fanno i competitor e soprattutto verifico cosa fanno i clienti a valle. E allora trovo un documento, lo scansiono, lo invio ai miei clienti e dico, guarda Giovanni cosa ho trovato, probabilmente sai già questa informazione, ma non si sa mai potrebbe essere più utile. Che la sappia o non la sappia, non cambia molto, vede una persona proattiva. Cosa potrei fare ancora? Insegnare, quindi a partire da webinar per arrivare a tutorial tutto ciò che può servire per migliorare le sue capacità, le sue competenze. Ancora qualcosa che tocchi la sfera emotiva, magari ogni tanto organizzare in azienda un open house nel quale proporre, presentare alcune novità e chiaramente, non so, magari fare una grigliata nel cortile potrebbe essere una cosa di questo tipo. Ogni tanto, ogni tanto, certo, ci sono delle offerte, proporre delle offerte, magari prefi scontati per i clienti più fedeli. Potrebbe essere rendere la vita più semplice al nostro cliente. Sappiamo che sono delle scadenti in arrivo, ricordare al cliente che ci sono queste scadente. Potrebbe essere ancora coinvolgere il cliente, per cui tipico è i questionari sulla customer satisfaction, rilevare il loro livello di soddisfazione sul nostro operato, i servizi, i prodotti che vendiamo, filtrare per loro, ad esempio, dei prodotti o informazioni. Nel mio caso, per esempio, io scrivo per alcune riviste di settore e gratuitamente accedo a questo servizio dove, oltre a informazioni di carattere fiscale e tributario, mi danno anche informazioni di carattere commerciale. Ecco, voglio dire, sono tantissimi i temi, i contenuti, gli argomenti che possono essere utilizzati per creare questa serie di mail. Ne ho elencate diverse e solamente una ha un riferimento commerciale, quindi il mio invito è non tamburate i vostri clienti con offerte, 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 perché è fatale che prima o poi questi si depennino dalla mailing list e non li vediamo mai più. Ecco, in effetti questa cosa che ci hai raccontato Stefano, io adesso ho scritto naturalmente sulla chat e invito le persone se hanno domande e curiosità, anche rispetto a quello che ha appena detto magari Stefano, se c'è qualcuno che vuole presentare anche un proprio caso in azienda, cioè un'azienda che fa servizi, un'azienda manifatturiera, un'azienda di prodotti, però quello che ti volevo chiedere era, tu hai parlato e hai descritto una sorta di ingratitudine del cliente, a cui noi dobbiamo essere sempre pronti, perché non dobbiamo aspettarci se non che prima o poi questa ingratitudine esca. E hai parlato di come tenere caldo il cliente facendo tu delle comunicazioni, quindi facendo un piano relazionale, lavorando sull'inbound marketing, però io ti chiedo questo, ma se il cliente è silente, cioè se il cliente è zitto, se il cliente non si fa vedere, non risponde a queste cose, siccome in questo tipo di sistema l'ascolto è fondamentale, come faccio ad ascoltare un cliente che sta zitto? C'è qualche modo per provare a tirare fuori questa cosa? Perché è naturale che se tu non ascolti non riesci neanche a essere proattivo, però se lui non parla come fai? Ecco, se lui non parla, io a volte non mi capaccio del fatto che alcuni aziende che magari hanno clienti con acquisti ogni due o tre mesi, quindi so che sono delle scadenze, non curanti il fatto che per tre, quattro, cinque, sei mesi questi non comprano, non si fanno vivi. Quindi pensano, beh, non avrà bisogno, forse per questo non mi chiamerà, e improvvisamente hanno nel database una serie di soggetti che loro chiamano ancora clienti, peccato che non siano più loro clienti, ma clienti qualcun altro. Allora, cosa dico io? Primo, prima di tutto, più tempo facciamo passare, peggio è. Secondo, ci sono delle tecniche che si chiamano tecniche di win back, cioè di recupero clienti, che si fondano su una serie di email successive. Adesso, senza essere in presenza, faccio molto fatica a indicare come si fa, ma se poi dopo le persone che sono qui presenti oggi sono interessate, posso inviare anche dei documenti per far vedere questa progressione di email, come funziona per riconquistare una percentuale di clienti. Io vi do una statistica che è questa, il 10% di persone che ha smesso di comprare da noi, semplicemente per essere ricontattata, ricomincia a comprare. E io capisco benissimo questo atteggiamento, perché se io sono il cliente di un'azienda, smetto di comprare e questa azienda non mi contatta più, la prima cosa che io penso, beh, senti, io sono il cliente, loro il fornitore, se loro sono contenti che io non compro più, evidentemente non mi meritano e comincio a comprare da qualcun altro. Per tornare dritto per dritto alla tua domanda, mi viene in mente un antico proverbio cinese che dice non preoccuparti del bambino che piange, preoccupati di quello che sta scritto. Perché il bambino che piange è un bambino, è il cliente ideale, è il cliente che se c'è qualcosa che non va, si lamenta. Non dobbiamo pensare che un cliente che sta scritto è felice, un cliente che sta scritto è un cliente che sta scritto. C'è una statistica che dobbiamo conoscere che dice che per le cose non gravi solamente il 7-10% dei clienti si lamenta, tutti gli altri si arrangiano, quindi vabbè, il packaging non era bello, patenta, vabbè, non funziona, l'ho giusto io, vabbè, sono in ritardo, chiudo un occhio. Dopo 1, 2, 3, 4, vabbè, sapete cosa succede? Che il cliente cerca un altro fornitore e improvvisamente io senza capire il motivo per il quale questo cliente si è andato, ho una continua emorragia dei clienti. Ecco, quindi è importante attivare questo meccanismo di customer care, che è fatto, se poi dopo possiamo approfondire il tema, da una serie di espedienti, una serie di punti di attenzione verso il nostro cliente. Quindi, sì, prego. No, ma ti dicevo, in effetti questa cosa, no, ci siamo passati all'ingratitudine, ci siamo passati appunto all'ascolto e siamo arrivati al fatto che in effetti per custodire, cioè che è più facile custodire i clienti lamentoni che custodire i clienti naturalmente silenziosi. E in effetti devo dire che questa cosa, questo tema appunto che tu stai, come dire, stai tirando fuori è molto interessante perché secondo me anche il cambiamento di approccio mentale all'interno dell'azienda è fondamentale da questo punto di vista, no? Cioè, io ogni volta che mi arriva una telefonata o mi arriva un'email di rimprovero non la devo vivere naturalmente come una scocciatura o come un, come dire, come una manifestazione, una segnalazione di un errore mio che mi deve mettere in difficoltà, ma la devo vivere come una sorta di segnale, di richiesta, tra virgolette, di intervento, che mi consente di poter essere proattivo, no? E' come se tu vedessi sull'autostrada i segnali che ti avvertono che c'è un lavoro in corso e se tu invece non avessi questi segnali e lo vedessi solo a 10 metri prima dell'ostacolo. Certo, certo. Quando è 10 metri è tardi, quando invece te lo dicono per tempo tu cominci a entrare in quest'ottica. Se l'approccio mentale è accidenti, che bello che mi è arrivato un'email di reclamo, cambia anche appunto l'intervento. Sei d'accordo su questa cosa appunto della... Assolutamente sì, guardando, tornando alla metafora, l'esempio del locale, del ristorante, no? Che non si accorge che i clienti non tornano più anzi, se ne accorge ma non capisce perché. È diverso l'atteggiamento del ristoratore che è preoccupato di che se tutto va bene e di quello che una volta che uno si lamenta, perché non sono in tanti che si lamentano, no? Magari usciamo, facciamo una croce su quel locale, non ci torniamo più, salvo poi parlarne con amici, parenti, conoscenti. Quello che invece si lamenta, magari una volta che è uscito il titolare dice col cameriere, ma guarda questi clienti qua, meglio perderli che trovarli. No, meglio trovarli che perderli perché ti dicono esattamente cosa fare affinché tu fra tre mesi non sei costretto a tirare giù la serranda per l'ultimo giorno. Quindi quell'atteggiamento di arroganza è proprio, diciamo, il presupposto per chiudere l'attività. Quindi con grande umiltà accettare anche le critiche più piccole, le critiche più piccole perché sono degli indicatori fenomenali. Sulle cose piccole la gente difficilmente si lamenta, soprattutto se riesce a gestire un'autonomia. Ecco, non dobbiamo, non dobbiamo, dobbiamo provare di non farsi sfuggere niente. Posso dirvi quali indicatori valutare e monitorare nella vostra azienda per sapere se state operando bene. Ecco, sì, quello qualche indicatore posso certamente darlo. E sono questi, a meno che non ci siano altre domande nel frattempo. No, allora io non ne vedo, Stefano, naturalmente invito i partecipanti a farci le domande ma eventualmente anche a segnalare un disservizio perché abbiamo appena detto che i partecipanti migliori sono quelli che naturalmente si lamentano e adesso non vorrei scatenare un'ondata naturalmente di lamentazio nei confronti appunto di Stefano Donati. Però è proprio così, Stefano, cioè questa cosa che tu dicevi, i partecipanti migliori sono quelli che si lamentano. Per chi fa la mia attività, i partecipanti migliori sono quelli che mi rompono le scatole in aula, cioè mi fanno continue domande perché è la dimostrazione pratica di interesse verso quello che sto facendo. Quindi quello che si sta buono, buonino, nell'angolo, in fondo, non dice niente, mi preoccupa e dopo tanti anni di attività ho scoperto che è opportuno obbligarlo a intervenire, no? Quindi coinvolgere, fare le domande e insomma verificare, avere un feedback se le cose funzionano. Ecco, prima di arrivare, Stefano, prima di arrivare poi a un'altra domanda, perché questa è una domanda che è arrivata poi dal pubblico, questa cosa della, ti interrompo su un attimo, poi finisci quello che dicevi, no, delle, che stavi appunto facendo come tipo di elenco. Ma ti dico questo, se aggiungi poi anche questa cosa, come ci riconoscono naturalmente anche le segnalazioni di errore o di reclamo da prendere in considerazione e quelle da considerare magari delle, semplicemente, delle tecniche di, tra virgolette, rotturo di scatole, perché è naturale che non tutti i lamenti o tutte le critiche sono critiche che dobbiamo considerare nel modo corretto. Non so se ho spiegato bene quello che intendevo. Comincerei subito da qui. Direi che l'aspetto quantitativo è un buon indicatore. Se è un cliente su 500 che si lamenta di una cosa o sono 50 è evidente che la cosa è molto diversa. Quindi il mio suggerimento è, così, sfruttare la vecchia, antica, ma sempre valida, leggi di Pareto 80-20-20-80. Cioè, quali sono i 20% di malfunzionamenti che generano l'80% di reclami, no? Una volta esaurite quelle cose lì, mi dedicherò all'altro 80% di malfunzionamenti per il residuo 20% di reclami. Quindi è logico operare in questo modo. Che cos'è che potremmo sbagliare in azienda? Quali sono le principali cause di abbandono? Io sono tante, sono tante. Però, se dovessi creare due grosse categorie, direi che sono, prime, gli errori che facciamo, ok? Quindi, diciamo, cause attive, errori commessi. E poi le cause passive, che corrispondono a aspettative che i clienti hanno, non si sa bene per quali motivi, magari per esperienze fatte attraverso, con altri fornitori, ai quali noi non rispondiamo. Quindi noi siamo tranquilli, non curanti del fatto che nella mente del cliente c'è un'aspettativa che non trova risposta. Allora, quali sono i principali errori che possiamo fare? I principali errori che possiamo fare riguardano, intanto l'elenco, poi magari facciamo qualche esempio, l'attività di vendita, la consegna, il prezzo, la specifica di prodotto e il tipo di servizio che do al cliente. Allora, comincio con la consegna perché in questo momento la distribuzione logistica sta assumendo un valore veramente importante. direi quasi paritetico al prezzo, al prezzo. Essere chiaramente tempestivi nella consegna vuol dire anche rispettare i tempi. Non è sufficiente dire io consegno in 48 ore, bisogna poi mantenere questa cosa qua. Dal punto di vista invece qualitativo, siamo più nel B2C, cioè verso un cliente finale, è certo che se il mio concorrente inizia a fare le consegne con i droni, si parlava che Amazon volesse introdurre questa nuova metodologia, è chiaro che ha fissato un nuovo standard. Se io rimango al mio antico standard, improvvisamente il cliente dirà, è però lui sta facendo questa cosa. Chi lavora verso un'azienda, quindi nel B2B, vi dico due cose, tempestività e mantenere le promesse. Le vendite, ecco le vendite è un aspetto importante, riguarda soprattutto il canale con cui arrivo al mercato. Vi faccio un esempio molto pratico per dire come questo fattore può essere determinante. Tutti quanti noi abbiamo un telefonino e uno smartphone e tutti quanti noi abbiamo scelto un operatore telefono. Bene, sono molto pochi quelli che hanno scelto Tiscali. Per quale motivo? Non credo perché Tiscali è un operatore peggiore, normalmente tutti si appoggiano sui stessi punti radio, quindi più o meno la ricezione è quella. È il fatto che, ancorché sia un prodotto che si può comprare anche online, un negozio fisico è importante. Sapere che mi posso recare in un punto vendita fatto di mattoni, nel caso in cui qualcosa non vada, mi dà una certa garanzia. Quindi so che in via Mazzio 83 c'è il punto vendita della Team, facciamo conto, se qualcosa non va e la telefonata non sistema la questione, posso recarmi lì, ok? Non è detto che Team sia migliore di Tiscali e viceversa, ma questo elemento psicologico può creare una preferenza verso un altro e l'abbandono di un operatore verso un altro. Un altro aspetto molto importante è il prezzo. Il prezzo è un elemento determinante quando io non realizzo un'offerta che è superiore agli altri. Quando la nostra offerta è percepita come esattamente uguale a quella degli altri, improvvisamente il prezzo la fa da padrona. Se io mi devo recare da Bologna a Palermo in aereo, per quale motivo mai dovrei usare Alitalia quando altri vettori fanno più o meno la stessa roba a un prezzo inferiore? Questo cosa vuol dire? Che se noi non ci adoperiamo per andare, per adattare leggermente l'asticella rispetto ai nostri competitor, la tentazione del nostro cliente di andare verso chi pratica a prezzi più bassi è molto molto forte. Un'altra cosa molto importante sono le specifiche di prodotto. Quando parlo io di qualità, normalmente parlo di qualità percepita, ma è molto importante anche la qualità oggettiva. se qualcuno ravvisa un calo di qualità del mio prodotto rispetto a quei competitor, beh, può essere questo un motivo di abbandono verso qualcun altro. L'ultimo capitolo, e sono sempre errori commessi, riguarda il servizio erogato. E qui dentro ci sta mare e monti, evidentemente, no? Allora il mio suggerimento qual è? Il mio suggerimento è fare una domanda ai vostri clienti, ok? Che è, cosa ti chiedono i tuoi clienti? Certamente diranno prezzi bassi. E noi diremo, bene, certo, oltre a questo, questa domanda è molto importante perché ci consente di strutturare quello che sarà il servizio di domani. Bene, se noi implementeremo quel tipo di servizio, diventiamo inattaccabili. Cioè non c'è un competitor che potrà portarci via i clienti. Queste sono le maggiori cause di abbandono per i rifatti. Poi ci sono cause di abbandono per, invece, aspettative mancate. Cioè cose che s'aspetterebbero da noi. Ci deve essere una forma di attenzione, un benefit, per cui ti riconosco che a fronte di tot acquisti tu avrai un vantaggio economico. Ci può essere un programma fedeltà, quindi una prospettiva di lungo periodo. ci può essere un riconoscimento di tipo emotivo, empatico, per cui tu hai un privilegio rispetto a altri miei clienti in termini di priorità, di consegni. Insomma, sono una serie di attenzioni, anche poco nerose, che ho qualcuno fare. Tutti quanti, e termino l'argomento, abbiamo clienti più o meno importanti e non è un discriminatorio verso nessuno dire, beh, c'è un nucleo di clienti che deve essere trattato un po' meglio. Quindi prima attenzione a quei clienti e poi tutti gli altri a seguire. Io faccio una domanda che era arrivata, anche questa, appunto, prima della, durante la settimana e fa riferimento proprio ai premi. Nel senso che questa cosa che tu hai raccontato, Stefano, è molto importante perché oltre ad ascoltare, appunto, abbiamo detto il cliente, no? Che può diventare ingrato, però tu puoi anche decidere di premiarlo e di premiarlo a questo punto facendo anche il cosiddetto, come hai detto tu all'inizio, l'effetto wow, cioè la magia, no? Quello che ti fa ricordare, ti rende memorabile e che ritorniamo a quello che aveva chiesto all'inizio, no? Come fai a farti chiamare quando serve? Se io mi ricordo di te, probabilmente ti chiamo, perché mi hai risolto il problema naturalmente precedente. Allora la domanda è come premiare i clienti che durante il lockdown non si sono rivolti alla concorrenza estera? Allora, ci sono diversi strumenti, diversi per premiare il cliente. Io qui escludo quelli di carattere economico-commerzale perché sono cose che tutti fanno e tutti sono capaci. Io... E lo sconto? Lo sconto no? Il premio, lo sconto no? Lo sconto no, lo sconto no perché offrire uno sconto è troppo banale e guardate che lo sconto agisce in maniera psicologica negativa sul cliente. Per un motivo. Quando noi offriamo qualcosa con un prezzo più basso, facciamo interlocali a noi quando come consumatori andiamo in un ipermercato, no? Facciamo la spesa, prodotti di largo consumo, devo comprare l'olio di oliva extravergine e quel giorno ce n'è uno in offerta. Bene, credo che tutti conferrete con me sul fatto che quando vedo quell'olio di oliva sullo scaffale extravergine in offerta, l'ultima cosa che penso è che sia migliore degli altri. E allora, se io agisco su una leva economica, è evidente che non attribuisco valore al mio prodotto. Ok? Poi dopo, come fare a mantenere fedeltà durante il lockdown? Il lockdown fortunatamente è finito e allora vi do delle strategie generali per mantenere fedeltà che ci sia o non ci sia il lockdown che sono una serie di riconoscimenti. Io li ho definiti diritti. Diritti che il cliente ha è che se noi attiviamo, beh, improvvisamente lui si sente un privilegiato. Ecco, farlo sentire un privilegiato è difficilmente. Chi si sente privilegiato ci lascia. Primo, potrebbe essere diritto a essere protetto. Cosa vuol dire proteggere un cliente? è un termine molto vago, generico che possiamo declinare in tanti modi e quando penso al concetto di protezione mi viene in mente un mio fornitore di servizi col quale io poi dopo programmo il mio blog e le newsletter che giornalmente mi dice guarda Stefano che il tuo blog non è stato oggetto di nessun attacco. Abbiamo monitorato, abbiamo verificato ed è tutto ok. Io sono molto contento chiaramente perché mi sento protetto. In realtà ben pensarci non stanno proteggendo me stanno proteggendo se stessi nel senso che se avessi un attacco mi attaccheria al telefono fin quando non risolvo il problema ma semplicemente comunicandomi un'attività che fanno e che dovrebbe essere scontata ecco che io non dandola per scontata attribuisco a quel servizio un elemento di valore. Un'altra cosa potrebbe essere io lo chiamo diritti diritto a essere informato. Anch'io prendo esempi dalla mia vita privata ho dei fornitori e forse immagino che vediate le mie spalle questo verde io abiti in montagna bene vi dico il mio riscaldamento è a pelle cosa vuol dire che una volta l'anno mi portano dei bancali di pelle allora quando il fornitore dice guarda Stefano arriviamo giovedì pomeriggio io dico guarda giovedì pomeriggio è molto lungo dalle 2 alle 7 di sera ecco che loro mi dicono guarda non ti preoccupare 30 minuti prima del nostro arrivo ti contatteremo così ovunque sei hai il tempo di arrivare non è un granché però vuol dire non rimanere schiavo del tempo mi danno un'informazione e quindi mi dicono tempestivamente quando io dovrò essere pronto per ricevere queste queste persone un altro diritto diritto a essere istruito siete certi che il vostro cliente abbia tutte le informazioni può essere questo un'attività corsuale può essere un webinar può essere un libretto di istruzioni può essere un tutorial essere istruito è molto importante perché a molte persone piace essere autonome e quindi non dover ricorre costantemente al loro fornitore e sbrigarsi le cose da soli un altro diritto importante essere ascoltato i nostri clienti devono poter accedere da noi ogni qualvolta ne hanno bisogno che sia una telefonata attraverso una chat attraverso una mail devono poter arrivare a noi agevolmente questo a che vedere tra l'altro con uno dei principi della qualità percepita di Parasuraman che è la accessibilità quindi consentire la massima accessibilità ancora che diritti ha il nostro cliente ha il diritto a essere rassicurato quando le cose non funzionano anche qui faccio un esempio nel momento in cui io ho avuto un problema con una fatturazione con una azienda che è mia fornitrice ho segnalato immediatamente la cosa e con un semplice autoresponder è arrivata una risposta preconfezionata non personalizzata ma che mi ha rassicurato guarda Stefano abbiamo preso in carico la domanda che ci hai fatto sappi che nel giro di 24 ore avrai la fattura che hai richiesto questo è molto molto bello ancora diritto a essere coccolato sì i clienti hanno diritto a essere coccolati quindi chiaramente facendo una graduatoria di importanza non possiamo dopo rovinarci economicamente per coccolare chiunque ma una estensione di garantia una precedenza nell'intervento d'assistenza mano d'opera gratuita in certi casi insomma una serie di plus che possiamo mettere sull'intervento dei clienti per cui si sentiranno trattati da privilegiati diritto a ricevere le scuse quando noi sbagliamo i clienti hanno diritto a ricevere le scuse quindi soprattutto telefonicamente mi raccomando soprattutto telefonicamente quando sbagliamo ci scusiamo dico telefonicamente perché nel caso in cui le scuse siano fatte via email non esagerate perché poi può essere usata come un'arma di ritorsione nei nostri confronti ancora che diritto possono avere a essere ringraziati esempio tipico ho fatto un servizio era previsto il pagamento in 60 giorni il pagamento non è arrivato chiaramente con molta cortesia costezione invia un'email dicendo guarda probabilmente ti è sfuggito è stato un uomo della banca non mi risulta pagata questa fattura il cliente se ne accorge buona fede era scappato dopo 15 giorni paga anche se il pagamento era dovuto noi ringraziamo lo stesso perché perché è una forma di cortesia quindi è un savoir faire che è molto importante questo per dire rispondendo alla domanda di Giacomo che sono veramente tante le cose che possiamo fare io ho fatto degli esempi che riguardano soprattutto la mia vita privata quindi semplicemente ribaltando come dire applicando questi diritti io li chiamo diritti ma sono punti di attenzione verso i vostri clienti farete qualcosa per essere ricordati il tema di oggi essere ricordati tornando all'esempio che ho fatto prima perché non andiamo in alcuni ristoranti non necessariamente perché ci hanno trattati mali semplicemente perché ci è passato di mente bene quelli dove siamo andati hanno fatto qualcosa affinché rimanessimo nella loro mente facciamo questa cosa qui quindi qualcosa in più rispetto all'aspettativa questa cosa di cui hai parlato dei diritti del cliente è molto interessante perché di solito ci sono frasi fatte come il cliente ha sempre ragione il cliente appunto bisogna bisogna ascoltarlo tutto quello che vuoi ma quando uno si mette dal punto di vista dei diritti del cliente questo ti impone anche un'attenzione maggiore perché tu lo consideri non semplicemente un come dire appunto qualcuno che acquista ma lo consideri qualcuno che acquista ma che ha anche diritto a ricevere tutta una serie di cose e siccome probabilmente non tutti hanno questo punto di vista tu diventi quasi automaticamente memorabile perché fai le cose che gli altri magari si dimenticano di fare o non fanno perché le considerano le considerano piccole o le considerano magari banali io adesso ti faccio prima di arrivare magari a una delle ultime domande se non naturalmente se non ne arrivano dal punto di vista dei partecipanti ma a me piacerebbe capire rispetto a quello che ha detto Stefano se c'è qualcuno che sta applicando questo tipo di questo tipo di tecnica se magari qualcuno vuole condividere con noi questa cosa ed è da dove io raccolgo le informazioni che mi servono a custodire i clienti c'è solo il customer care che è diciamo così il punto la pancia dell'azienda quella che riceve tutti i pugni appunto che vengono dati di solito che è quello che deve essere anche più formato più tra virgolette attrezzato per gestire soprattutto quei clienti che vomitano addosso la rabbia e l'ira che magari non è legata solo a quella a quella appunto cosa sbagliata ma che deriva dal fatto che loro abbiano vissuto qualcosa di male nella giornata e quindi c'è solo il customer care che deve essere formato per questa cosa o in realtà queste informazioni che poi ci servono per custodire il cliente devono arrivare da più punti dell'azienda allora queste informazioni possono arrivare da qualunque punto dell'azienda io sento parlare a volte del CRM aziendale che sta per customer relationship management che cos'è è un grande database anche è un data warehouse un database intelligente nel che dovrebbe dovrebbe essere popolato di informazioni i dati e tutti quanti dovrebbero avere accesso a questi dati tutti quelli che hanno un rapporto diretto o indiretto col cliente quindi potrebbe essere certamente il commerciale che per antonomasia è quello che contatta il cliente ma potrebbe essere anche l'amministrazione che avendo scoperto che a quel cliente piace che la fattura venga inviata da casella di posta elettronica piuttosto che piace che la riba venga pagata in un certo modo deve indicarlo in questo database più dati conosciamo del cliente più facile sarà per noi chiaramente attivare queste politiche di customer satisfaction poi devo dire che c'è uno strumento uno strumento principe che è l'indagine della customer satisfaction che in pochissimi fanno a volte devo dire meno male perché alcuni questionari non sono fatti proprio bene come si fa un questionario degno di questo nome la primissima cosa che devo fare è individuare quali sono gli oggetti da indagare gli oggetti da indagare sono i fattori critici di successo cioè quali sono i criteri per i quali un cliente decide sceglie un fornitore piuttosto che un altro quindi la fonte migliore in assoluto per scoprire quali sono questi criteri è il cliente stesso e allora ci sono cinque parametri che sono universali valgono per tutti i prodotti beni di consumo industriali beni di lusso servizi che sono un indicatore fenomenale per scoprire quali sono questi criteri sono primo l'efficacia noi diamo il risultato che il cliente desidera dovrebbe essere quasi per scontato ma hanno detto chissà così il secondo è l'efficienza l'efficienza misura il costo non economico che il cliente sostiene per ottenere quella cosa il tempo che deve aspettare l'ansero stress che deve subire il terzo criterio è la accessibilità prima l'abbiamo visto tra quei famosi diritti il potere avere a disposizione disponibile le cose che gli servono o le persone di cui hanno bisogno in tempi ragionevoli il quarto criterio è la appropriatezza cioè il concetto di customizzazione siamo in grado noi di realizzare qualcosa di veramente coerente pertinente con i suoi bisogni il quinto criterio quello di accessibilità oggi è di moda va tanto in voga il criterio per esempio il concetto di sostenibilità ambientale bene se qualcuno rileva che la nostra produzione potrebbe essere dannosa per l'ecosistema improvvisamente siamo fuori rotta questi cinque criteri poi vanno declinati in cose attività prestazioni e se lo fate nelle run fuori vi dico subito 10-12 che saranno l'oggetto delle domande da porre ai nostri clienti attenzione non limitatevi a chiedere la soddisfazione semplice cioè su questi 10-12 oggetti cliente sei contento non sei contento così così ma dobbiamo anche chiedere quanto questi oggetti sono importanti per il cliente quindi incrociando importanza con soddisfazione semplice avremo un diagramma con quattro quadranti nei quali in basso diciamo abbiamo poca importanza e siamo pochi performanti va bene molto importanti e siamo molti performanti va bene siamo molto performanti dove è poco importante io mi chiederei perché lo facciamo e lascio come ultimo quadrante il quarto che è il più importante siamo poco performanti laddove per il cliente è importante in tempo reale sappiamo esattamente cosa stiamo sbagliando io mi chiedo perché questa attività non venga istituzionalizzata all'interno delle aziende perché avremo una cartina intorno al sole perfetta immediata in tempo reale delle nostre aree di miglioramento cioè sapere esattamente cosa fare solamente che quei pochi che lo fanno dicono sì vabbè io l'ho fatto però mi ha risposto così pochi 7, 8 13% è vera questa cosa il motivo è molto semplice se le persone non hanno un motivo per riempire un questionario non lo riempie se io metto una lettera di accompagnamento con due righe del tipo gentile cliente ti allegro il questionario ci metterei due minuti le tue risposte mi saranno utili per migliorare il mio prodotto e servizio dall'altra parte quando leggono dicono sì appunto l'interesse è tuo a me cosa me ne frega prende il questionario la cartossano e lo buttano via quindi anche la lettera d'accompagnamento è importante va venduto tutto insomma va venduto anche la richiesta di quei due minuti per compilare un questionario mi raccomando mi raccomando fatelo con risposte chiuse dove io fleggando dei piccoli campi in due minuti veramente riesco a compilarlo ci sono altri punti di attenzione chiaramente qui non è la situazione però fateli questi questionari perché chi meglio dei clienti sa cosa va migliorato nessuno è arrivata una domanda e poi dopo faccio la mia ultima domanda che è la domanda quella appunto di chiusura dell'esame e poi diamo il voto bene appunto a customer satisfaction a Stefano Donati la domanda è questa condivido pienamente l'affermazione che il CRM va alimentato molto bene il problema è far capire al commerciale che queste informazioni da raccogliere non sono una forma di controllo del suo lavoro ma servono all'azienda per migliorare per servire meglio il cliente questa è una domanda secondo me Stefano molto interessante anche perché devo dire che il problema del CRM è che se non diventa un'abitudine e un'abitudine condivisa come dicevi tu da parte di tutti i componenti dell'azienda questo CRM rimane lettera morta noi vediamo dei CRM spettacolari da questo punto di vista che però non servono perché naturalmente non hanno questo tipo di informazioni e soprattutto in certi casi hanno delle informazioni molto settoriali che sono solo quelle di quello che compila naturalmente il CRM che ti impediscono di capire com'è davvero il cliente perché se io ho solo informazioni sui tempi di pagamento e sui termini di pagamento e sul fatto che è appunto sempre in ritardo col pagamento questo però non mi dice che cosa posso fare per naturalmente fare un prodotto migliore una proposta migliore e magari riuscire a gestire in modo migliore il cliente quindi questa cosa è sicuramente sicuramente te lo dire la parte fondamentale il problema è che tu dici bisogna vendere tutto come vendiamo il CRM a quelli che lo devono compilare allora innanzitutto io vedo che è stata mara fare la domanda in realtà più che la domanda è un'affermazione che io condivido al 100% anche questa cosa va venduta il CRM si nutre di dati quantitativi e qualitativi quelli quantitativi sono magari più comodi più pratici e veloci a compilare quelli qualitativi richiedono più tempo e riconosco che alcuni commerciali quando alle 7 7.30 8.30 se arrivano a casa non hanno molta voglia di starli a scrivere delle cose nel CRM allora tantissime volte mi hanno chiesto anche adesso sto avendo con un'azienda che sta implementando un questionario e la domanda che mi fanno è qual è il questionario il CRM migliore in assoluto il CRM migliore in assoluto è quello che consente al commerciale di compilarlo in 5 minuti alla sera ecco qual è il CRM migliore in assoluto è quello che non è visto come un lavoro addizionale a quello che loro fanno tutti i giorni e il modo per diciamo rendere collaborative queste persone nel compilare il questionario è far comprendere quali sono i vantaggi che loro stesso trarranno da queste informazioni queste informazioni di carattere qualitativo di cui parlavo prima fanno sì che l'azienda poi possa implementare miglioramenti cambiamenti innovazioni servizi supplementari che renderanno l'offerta più performante che consentiranno quel commerciale di recarsi magari da clienti simili a quelli che sta servendo con delle nuove armi con argomentazioni commerciali molto più potenti quindi è un è la chiusura del cerchio è un chi fa marketing in azienda se fa tutto da solo illudendosi che mettendosi nella torre d'avorio e decidendo in piena autonomia quali sono le strategie migliori può andare con normalmente va incontro ad illusioni incocenti il commerciale che è sul campo è quello che vede cose che io dall'azienda non riesco a vedere quindi stimolare questa collaborazione è fondamentale perché ciò che io vedo in azienda è molto importante di quello che possono dirmi le informazioni si ottengono attraverso un'intervista Ero Spugnoli è il mago dell'intervista e sono perfettamente d'accordo con questo ma io sono ancora più attento ai segnali deboli che sono quelle informazioni che mi arrivano da cose che osservo magari qualche disfunzione magari qualche problema organizzativo che mi dà il là per implementare il cambiamento e il miglioramento ecco queste sono informazioni che io invito tutti quanti a inserire in questo famoso CRM e auspico che nasca questa collaborazione soprattutto nell'azienda in cui sto lavorando adesso perché mi rendo conto che è fondamentale allora io adesso ti faccio l'ultima domanda naturalmente c'è lo spazio ancora per qualcuno se vuole intervenire ma la domanda è una domanda molto tra virgolette diretta che cosa rispondi al cliente che dice guarda sei bravo sei bravo però io ho trovato uno che costa meno io non so cosa dirti per cui ciao bene intanto uno che dice così evidentemente non pensa che sono molto bravo perché se fossi molto bravo non sarebbe quella differenza di prezzo che lo fa andare da un'altra parte bene allora prima abbiamo cominciato l'incontro di come come riaccendere la fiamma no come si fa a riaccendere la fiamma che si è spenta eh tua eh non bisogna permettere che si spenga ma così si può così facile non bisogna permettere che si spenga perché perché il winback è l'attività di recupero è difficile se uno mi fa con l'obiezione del prezzo siamo veramente agli sgocci ok qualcosa si può fare si può provare a a rimediare con un'intervista no del tipo eh perché consideri perché non consideri il mio prodotto adeguato al valore economico che ti propongo sapete perché io faccio questa domanda laddove dovessero formi questa questione perché verrebbe fuori veramente la magagna cioè il problema che c'è e vi dico il problema non è il prezzo il problema non è mai il prezzo se siamo performanti vuol dire che sotto c'è un'altra questione allora io invito tutti quanti quelli che avessero questo tipo di obiezione che è diciamo l'anticamera all'addio dire bene mi rendo conto che il prezzo è importante ti chiedo di dirmi per cortesia per quale motivo non trovi coerenti la quotazione che ti do col valore della mia proposta vedrete che non parlerà più di denaro e parlerà di cose che mancano cioè sono quei famosi motivi sottaciuti no che io non avevo visto non me ne ero accorto e sono quei segnali che non ho raccolto quindi sono molto 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 gravi quindi bisogna sapete vi dico questa cosa qua perché è importante mantenere una buona relazione col cliente perché c'è un parallelismo fortissimo tra rapporto cliente fornitore e rapporto di coppia se nostra moglie mia moglie il nostro partner si lamenta io non sono preoccupato e quando smetti di lamentarsi che sono preoccupato vuol dire che c'è una carenza di fondo allora va stimolato continuamente con quella serie di cose che ho provato a elencar brevemente prima no quei plas quei venici quelle sollecitazioni che fanno emergere emergere il la questione se no si rischia la sindrome della rana bollita cioè io dentro l'acqua che è tiepida che sono sul fuoco no pian piano si scalda si scalda si scalda come rana non mi accordo che la temperatura sale poi arriva a una temperatura tale per cui io perdo le energie e muoio dentro bollito cosa vuol dire vuol dire che uno schiaffino che è una scottatura fa molto bene perché vuol dire che sono ancora in tempo arrivare a quel punto lì guarda sai Giacomo mi dispiace tu sei molto bravo ma sai il pref il pref vado da un altro è evidente che io non riesco a dare niente di più niente di più rispetto all'altra alternativa che ha cioè non lo porto veramente in una condizione una performance nella possibilità di aprirsi nuovi mercati servire meglio i suoi clienti che l'altro non può fare e allora vuol dire che io mi sono seduto mi sono seduto e mi sono illuso che andando avanti così all'infinito non avrei mai perso il mercato e faccio la fine che ne so del bacino di non ce l'ho color ma è un esempio di Avano e Montegrotto che un po' alla volta già che i clienti sono tutti ottogenari tedeschi un po' alla volta muoiono e improvvisamente si trovano negli alberghi vuoti perché non hanno fatto niente per alimentare una nuova clientela con nuove offerte ok quindi si tratta di fare un po' di intelligence sul mercato ma non è più un'attività di customer satisfaction è un'attività di marketing che però ha molto a che vedere con questo allora io devo dire ringrazio naturalmente Stefano Donati siamo arrivati alla fine di questa nostra conversazione devo ammettere che intanto mi ha dato sicuramente due buoni una buona notizia un buon suggerimento la buona notizia è che il mio rapporto di coppia va alla grande perché naturalmente appunto i lamenti ci sono e le critiche sono anche notevoli e il suggerimento è quello di non portare intendo dire una volta all'anno la moglie a cena in un tre stelle michelin e dimenticarci di tutto il resto ma fare dei gesti che tengano appunto in caldo la relazione e quindi ogni volta magari provare a sorprenderla anche con piccole cose ma che continuano a dare la dimostrazione dell'attenzione nei confronti del cliente devo dire che questa metafora del rapporto di coppia noi l'abbiamo usata giocando con questo percorso abbiamo fatto di questi tre incontri dello smarketing con Carlo Alberto Baroni che è ancora qui con noi che ha parlato della seduzione di come sedurre appunto i clienti poi abbiamo parlato con Erros di come conquistare il cliente e adesso abbiamo parlato appunto con Stefano Donati di come custodire il cliente e devo dire che abbiamo lanciato anche un corso c'è ancora la possibilità di iscriversi un corso in tre giornate qualcuno ci ha già detto che sarebbe stato interessato ma le ferie sono state più forti del nostro tentativo di vendita e vorrei vedere come avremmo potuto appunto controbattere questa cosa quindi avremo faremo una valutazione se riusciamo a farlo partire o se invece decidiamo di avere più partecipanti e quindi di rilanciarlo da settembre e poi vi chiediamo diciamo due cose uno vi diamo appuntamento a settembre perché sicuramente se aprono davvero le gabbie stavolta facciamo l'incontro di persona e proviamo a organizzarlo in modo anche un po' proattivo e magari mettiamo anche insieme un po' tutti i partecipanti che hanno partecipato allo smarketing e chiedo a Carlo Alberto se buttiamo insieme anche i partecipanti del branch del branch digitale facciamo un grande happening tutti se aprono se aprono tutti 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 ragazzi facciamo facciamo un assembramento un assembramento intanto Carlo Alberto vi ha messo appunto il link al corso quindi se qualcuno non l'ha visto o vuole andare a dare un'occhiata e l'altra cosa è questa proveremo a costruire un'email che manderemo a tutti i partecipanti agli incontri dello smarketing è un'email che costruirà il mago del customer care Stefano Donati così gli diamo il compitino per casa perché così ci dite che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato nello smarketing e ci date magari il là per provare a portare avanti questa esperienza modificandola sempre nel corso del tempo e quindi rendendola ancora più efficace cosa dici Stefano lo facciamo? lo facciamo lo facciamo lo facciamo perché così ascoltiamo quelli che sono stati la forza dello smarketing che siete voi che avete partecipato che ringraziamo e vi chiediamo di farci l'ultima foto insieme prima delle vacanze naturalmente perché poi la prossima foto la faremo tutti in bermuda con la prova costume quindi vi chiediamo di accendere la webcam per chi lo può fare e così ci salutiamo appunto e ci diamo appuntamento a settembre allora se non l'accendete io faccio fotocamere attive escludo tutti quelli che non l'accendono e ci facciamo la foto ah finalmente la Sabrina Nolli che ha accettato questa sfida brava Sabrina benissimo allora intanto che aspettiamo gli altri ecco qua Filippo Foggetti che finalmente vediamo la Sabrina ha rotto il ghiaccio ha rotto il ghiaccio visto la Suzana Terek buongiorno Davide Biffi tra l'altro Filippo Foggetti era il senese era lui senese dell'istrice sì giusto forza forza istrice ecco che nel customer care di CRM di esodo dello smart abbiamo messo anche l'istrice di Filippo Foggetti così ce la ricordiamo perfetto allora rifacciamo la foto guardate la camera vediamo che ha tenuto gli occhi chiusi che di solito ce n'è sempre uno ma no ma eh sì non va bene no no non andava bene perché qua Diego Vincenzi era commosso allora Diego occhi aperti per favore dai che guardiamo nella camera perfetto vediamo adesso com'è venuta ah c'è anche Giacomo Costa aspetta che era rifatto questa cosa qua guarda è peggio dei matrimoni questa roba qua però ci teniamo per cui la facciamo vediamo vabbè adesso la teniamo c'è Stefano che sta ridendo con gli occhi chiusi ma va bene così perché l'entusiasmo si vede perfetto bene grazie a tutti grazie davvero di cuore se avete naturalmente qualche suggerimento qualcosa noi siamo davvero qua vogliamo essere davvero accessibili chi ha chiesto il libro dello marketing e devo dire non l'ha ricevuto tenete conto che abbiamo avuto qualche problema nostro di gestione dell'email ve lo mandiamo per cui vi rimanderemo appunto questo link dove lo potete scaricare però non lasciateci soli rispondete all'email che faremo con Stefano Donati perché ci serve il vostro naturalmente contributo da questo punto di vista grazie a tutti e buona serata ancora va bene ciao a tutti grazie allora Stefano ti chiedo solo di stare qui un attimo con Carlo Alberto grazie a tutti grazie a tutti